So, ciao a tutti e benvenuti al teatro sociale, noi siamo Platone Playground. Vincenzo mi ha presentati, io gli dico, Mandova in France 2015, Platone Playground! Vincenzo mi ha presentati, io gli dico, Mandova in France 2015, Platone Playground! Vincenzo mi ha presentati, io gli dico, Mandova in France 2015, Platone Playground! Vincenzo mi ha presentati, io gli dico, Mandova in France 2015, Platone Playground! Grazie a tutti Grazie a tutti